Uè ragazzi, mi sono Dammino e ben ritrovati in un'altra fantastica puntata della Minecraft Best Build. Oggi andremo a costruire un'altra bellissima casa per i nostri nuovi amici pappagalli. Vi invito come sempre a lasciare like e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Detto questo passiamo al video, nel penitiziale come sempre, sigla! Le ultime due che abbiamo fatto erano abbastanza in alto e quindi forse anche un po' improbabili da raggiungere. Oggi invece la facciamo molto molto bassa, ovvero posizioniamo un solo blocco di muretto e poi con le slab di petulla andiamo a formare un quadrato 3x3, in questo modo. Posizioniamo un altro blocco sotto, esatto, sotto i due angoli poi, circondiamo da muretto senza metterlo agli angoli, in questo modo. Ecco qua, alziamo di altri due, non però nella fila centrale del lato perché ci andrà il vetro. Spacchiamo questi due mezzi blocchi, quindi la slab e leviamo questo per metterci il blocco di terra. Qua ci mettiamo l'acqua e qua in questo in mezzo ci mettiamo il nostro fieno come mangime. Mettiamo delle bottele qua davanti e poi chiudiamo il tutto con delle slab di abete, mettendola questa volta oltre ai lati e anche agli angoli. Ed ecco qua finita la nostra bellissima casetta per i pappagalli. Spero che il video sia stato d'aiuto, lasciate come sempre like e condividete e ovviamente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo in un'altra fantastica puntata della Minecraft Best Build, da Mini è tutto, lei nello studio. Ciao ragazzi! Ciao!